La signoria cittadina è una forma di governo che interessa soprattutto l'Italia centro-settentrionale a partire dalla fine del XIII secolo. Nasce e si sviluppa all'interno dell'istituzione comunale, principalmente attraverso l'attribuzione di cariche podestarili ai capi delle famiglie più in vista nei comuni, con poteri eccezionali e spesso di durata vitalizia. Abbiamo parlato di cariche podestarili, quindi ricordiamo che il podestà è un magistrato, nel senso di individuo con incarichi pubblici, generalmente al di sopra delle parti. Una sorta di mediatore cui viene affidato il potere esecutivo, di polizia e giudiziario. Rendendolo di fatto il più importante strumento di applicazione e di controllo delle leggi all'interno del comune. Il podestà è però privo del potere legislativo, poi dura in carica soltanto per un periodo che va da sei mesi a un anno e, a differenza del console, almeno in principio, può non appartenere alla città, così da evitare coinvolgimenti personali nelle controversie cittadine e garantire l'imparzialità nell'applicazione delle leggi. Quindi, come certamente avete osservato, la figura del podestà è ben diversa da quella del signore. Ma, con l'attribuzione di cariche podestarili ai capi delle famiglie più in vista nei comuni, con poteri eccezionali e spesso di durata vitalizia, come abbiamo visto, la figura del podestà viene snaturata e si creano i presupposti per l'avvento proprio delle signorie. Nelle prime testimonianze di signorie urbane, a partire dalla seconda metà del Duecento, i signori agiscono sulla base di un forte mandato del popolo, di cui rappresentano le istanze politiche. Con il passar del tempo, i signori più ricchi e potenti riescono a ottenere la facoltà di designare il proprio successore e questo è un punto chiave per dare inizio a delle vere e proprie dinastie signorili. Un importante momento di rafforzamento del nuovo potere signorile è la sua legittimazione da parte dell'imperatore o di altri poteri sovrani, come ad esempio quello del Papa. che dietro un forte compenso da parte dei signori spesso concedono loro svariati titoli, come ad esempio quello di vicario imperiale, di duca o di vicario papale. In un primo momento le istituzioni comunali rimangono funzionanti, ma soprattutto dopo gli anni 30 del 300 spesso si limitano soltanto a ratificare le decisioni del signore. Numerose signorie cittadine, soprattutto le più antiche, limitano il loro potere a singole città, tanto che si possono definire monocittadine. E' il caso di Alberto Scotti a Piacenza a partire dal 1290, Manfredo Beccaria a Pavia a partire dal 1289 e Romeo e Taddeo Pepoli a Bologna nella prima metà del 300. Quindi queste erano signorie monocittadine. Altre signorie, invece, hanno fin da subito oppure acquisiscono per via militare una consistenza sovralocale, estendendo la loro autorità su più città e diventando a partire dalla fine del 300 veri e propri stati regionali. Tra le più importanti signorie sovralocali ricordiamo i De Medici a Firenze, i Gonzaga a Mantova, gli Sforza, i Della Torre e i Visconti a Milano, i Dammontefeltro a Urbino, gli Estensi a Ferrara, i Bentivoglio a Bologna, i Della Scala a Verona e i Malatesta nell'area di Rimini. Diversamente da quanto detto finora, alcune signorie del Nord Italia nascono come emanazione del potere dei principi feudali, che riescono a includere all'interno dei loro territori anche importanti comuni, comuni che, per la loro limitata forza economica, politica e militare, non sono in grado di combatterli efficacemente. Appartengono a questa tipologia la signoria dei Marchesi di Monferrato e quella dei Conti di Savoia. I primi riescono a imporre il loro dominio su Alessandria, Vercelli e Pavia, mentre i secondi governano su Torino, Ivrea, Fossano e Cuneo. Per breve tempo, anche in Veneto, si impone una signoria feudale, quella di Ezzelino da Romano detto il Terribile. In un primo momento, come abbiamo già accennato, l'istituzione signorile convive con quella comunale, senza cambiarla e senza mostrarsi apertamente, richiedendo una legittimazione ufficiale. Gli storici definiscono questo tipo di signorie Cripto-signorie, ovvero signorie nascoste. Con queste signorie, ancora in ombra, ma già forti, salgono al potere alcuni avventurieri, ma soprattutto famiglie di antica nobiltà cittadina, che dopo aver governato per una o due generazioni, riescono a legittimare il loro potere e a renderlo ereditario, ottenendo per i loro rappresentanti alcuni titoli come ad esempio quello di Vicario Imperiale nel XIV secolo oppure Duca o Marchese nel XV secolo. Ricordiamo che, al contrario, il Podestà durava invece in carica soltanto da sei mesi a un anno ed era privo del potere legislativo. La signoria rappresenta un momento di transizione fondamentale verso la formazione dello Stato moderno, in quanto è proprio con la signoria che inizia il processo di specializzazione e di accentramento delle diverse funzioni del potere. La diplomazia, l'amministrazione burocratica e il prelievo fiscale. In Italia l'evoluzione delle signorie porta alla formazione degli stati regionali, ad esempio Milano con la Lombardia, Venezia con il Veneto e Firenze con quasi tutta la Toscana. Questa configurazione territoriale fa nascere una pluralità di centri di produzione economica, artistica e culturale, quindi un aspetto molto positivo, ma allo stesso tempo crea una frammentazione del territorio italiano, esponendolo così alle invasioni straniere. Le signorie si evolvono poi in principati con dinastie ereditarie quando, come abbiamo già accennato, i signori, riconoscendo l'imperatore e pagando una quantità di denaro, vengono illegittimati e riconosciuti come autorità. Ricordiamo che il principato è uno stato regionale in cui i poteri sono saldamente concentrati nelle mani di un principe che, alla stregua dei sovrani europei, è riuscito a limitare i poteri della vecchia nobiltà e delle gerarchie ecclesiastiche. I principi tentano anche di creare degli stati sovra-regionali estendendo il proprio territorio, ma nessuno dei principati italiani riuscirà ad avere una forza tale da conquistare gli altri. Il passaggio da un'entità politica limitata a una sola città e al suo contado, quindi il comune, a un'entità che comprende invece un'intera regione, quindi il nuovo stato rinascimentale, comporta profondi cambiamenti. Vengono creati eserciti permanenti, stabili strutture diplomatiche, un forte apparato burocratico centrale e una rete capillare di funzionari con un grado di preparazione e di professionalità sempre crescente. Bene, questo video termina qui, spero lo abbiate trovato interessante. Come sempre un sincero grazie per l'attenzione, ciao a tutti e alla prossima.